5.200 pazienti assistiti a Pesaro, 3.500 a Fano e oltre 15.000 visite di controllo all'anno. Sono numeri importanti quelli che arrivano dalla diabetologia che grazie alla sinergia tra Asur e azienda ospedaliera Marche Nord consente la presa in carico dei pazienti del territorio e l'individuazione per ciascuno del cosiddetto setting assistenziale adeguato. L'unità operativa fa parte del Dipartimento di Medicina Interna diretto dal dottor Gabriele Frausini. La struttura specialistica non deve curare tutti i diabetici ma deve focalizzare la sua attenzione e le sue risorse soprattutto sui pazienti complessi, sui pazienti che hanno comorbilità e sui pazienti che hanno delle complicanze. Sappiamo che il diabete porta delle terribili complicanze a livello oculare, a livello cardiaco, a livello renale, a livello vascolare e allora noi dobbiamo curare con la massima attenzione, prevenire e curare questi tipi di complicanze. La diabetologia, spiega il primario, è composta da quattro medici più un quinto che arriverà al 13 marzo. Un'equipe d'eccellenza, ci spiega Frausini, che non hanno tutte le realtà marchigiane. Inoltre questi dottori sono esentati dai turni di guardia, da quelli festivi e notturni, facendo sì che durante la settimana ci sia sempre un medico in più. Per i pazienti poi, visto che sono gravati da rischi maggiori, c'è un percorso dedicato dal triage alle fasi di ricovero e di dimissione. Stessa situazione per le donne in gravidanza, collaboratori in tutta sicurezza. Altro ruolo fondamentale è la telemedicina messa a punto da Marche Nord. Chiaramente non tutti i pazienti vengono visti in presenza, ma tutti quelli che hanno bisogno hanno la possibilità di poter accedere sia come prime visite, che non sono mai state interrotte, sia come visite di controllo nel momento in cui la presenza del paziente è necessaria. Inoltre abbiamo implementato una serie di tecnologie, per cui il telemonitoraggio della glicemia, l'impianto dei sensori anche a distanza e con questo, grazie al fatto che i dati poi vengono trasmessi in cloud, possiamo poi poter monitorare il paziente anche a distanza. Il paziente poi che invece va incontro a uno scompenso glicometabolico, ha la possibilità di accedere al nostro day hospital per poter evitare spesso dei ricoveri ordinari o accessi non appropriati in pronto soccorso. Ad elencare invece le esigenze della categoria è il dottore Emilio Augusto Benini, presidente della Federazione Regionale Associazione Tutela dei Diabetici e presidente nazionale FAND. Continuità terapeutica. Il secondo aspetto è quello di avere i team diabetologici nel loro completo, nella loro completezza, perché il diabetico ha bisogno non solo del medico specialista, ma magari anche della dietista, del podologo, dello psicologo. Il terzo aspetto fondamentale è quello che chiediamo, è quello di avere un maggior investimento per quelle che sono le nuove tecnologie, nuove tecnologie e nuovi farmaci. In questi giorni si è parlato anche di una carenza di organico, di locali insufficienti. Che cosa risponde alle polemiche? Ma io vorrei lasciare da parte queste polemiche e lasciarle ad altri. Siamo veramente amareggiati, questo sì, perché ci stiamo dando da fare e i numeri ci danno la ragione. Rimaniamo comunque in un attento ascolto a tutti quelli che possono essere i suggerimenti costruttivi e ribadisco costruttivi che possono venire dai pazienti e dalle associazioni.